Riforme annunciate e poi finite tra le incompiute. E la Cisla parlare lo fa dopo aver atteso risultati. Una critica che nasce da un lato per l'assenza di confronto con le parti e dall'altro per le tante polemiche e proteste giunte dai cittadini. L'Abruzzo con i problemi che ha sul versante del bilancio, quindi economico, soprattutto per la copertura del deficit e della riduzione delle risorse comunitarie dei FAS, ha la grande necessità di avviare una politica riformatrice in diversi settori. Su questo problema non è più possibile attendere, perché ne stiamo parlando da tempo. È vero, alcune riforme sono state annunciate e alcune sono state avviate, ma non sono state realizzate. Qui abbiamo bisogno di realizzare i nuovi strumenti. Quali sono le più importanti? Oggi noi sollecitiamo quella della riforma della macchina regionale. Fino a ieri non avevamo ricevuto nessun incontro, c'erano stati annunci, ma sembra che adesso ci hanno convocato e quindi vedremo se c'è la volontà di ridurre le direzioni, di mettere a sistema la struttura regionale. C'è il problema, per esempio, dei consorsi industriali. La legge c'è e adesso però i consorsi sono vuoti. Prima o poi anche le imprese avranno problemi. Perché non si riesce a portare a termine il progetto di riforma? C'è il grande problema della sanità. Noi siamo rimasti meravigliati anche dell'atteggiamento che in questo momento nella politica c'è sul progetto di riordino e commissariamento. Il riordino va realizzato, la politica dei due tempi non è più accettabile, ai cittadini quando si propone la riorganizzazione di un presidio ospedaliero bisogna dire tempi e modalità di intervento per gli interventi sostitutivi. Nasce oggi l'esigenza di risolvere questioni fondamentali e indispensabili per la popolazione. Si chiedono proposte per riqualificazione e ottimizzazione delle risorse. Noi abbiamo bisogno di proposte. Di proposte discusse poi con noi e immediatamente realizzate. È troppo tempo che l'Abruzzo discute ma non realizza. Noi abbiamo una fase che noi ci auguriamo che si consolidi di ripresa del settore economico in alcuni grandi settori. Sembrano che gli interventi a livello comunitario ci possono aiutare per le condizioni che sono realizzate. L'Abruzzo è in grado di sfruttare questa fase. Ogni regione sta pensando a sé, nessuno pensa agli altri. Quindi la regione, l'Abruzzo, o è capace da sola di riorganizzarsi oppure noi non ce la faremo.